Sotto le mie mani c'è uno scorpioncino Ora questa tecnica qua la faccio per tranquillizzarlo Perché sennò scapperebbe subito Gli scorpioni sono araclidi, non sono insetti Come la maggior parte della gente può pensare Hanno 4 paia di zampe per ogni lato del corpo E in tutto fanno 8 zampe Ora ve lo farò vedere Vi do la dimostrazione che questi animali non sono assolutamente mostruosi Non tentano mai di mordere O di punge Vedete eccolo qui E' piccolo, è uno scorpione italico Vedete? Guardate quanto è carino Vedete non punge, è pure sulla mia mano Oh tranquilla 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 Devo tentare di non farlo cadere ma è difficile Guardate com'è bello Ok non dentro la manica eh però Guardate qui Fantastico Gli scorpioni risalgono a 300 milioni di anni fa Il primo scorpione Venne sulla terra 300 milioni di anni fa circa E' caduto ecco E venivano dal mare I primi scorpioni infatti erano acquatici Poi si sono adattati alla vita terrestre Adesso lo rimettiamo a posto eh Vieni piccolo Abbiamo stressato già anche troppo E' caduto ecco E' caduto ecco E' caduto ecco